ciao a tutti oggi prepareremo i panini per hot dog il tempo di preparazione della ricetta di quattro ore circa ingredienti sono farina di tipo zero latte zucchero lievito di birra fresco burro morbido e sale diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte lo zucchero e il lievito ed azioniamo il bimbi per tre minuti 37 gradi velocità 3 aggiungere la farina il sale ed il burro morbido ed azioniamo il bimbi per quattro minuti in modalità spiga l'impasto è pronto trasferire in una ciotola infarinata coprire con pellicola trasparente lasciamo lievitare in forno spento con luce accesa per almeno due ore trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che ben lievitato dividerlo in dieci panetti dopo aver formato i panetti stendere l'impasto con le mani formando un rettangolo e facciamo le pieghe ripetiamo un'altra volta lo stesso passaggio formare una sfera e dopodiché allungarla con le mani posizionare su una teglia rivestita con carta da forno e continuare così per tutto il resto dei panetti dopo aver formato tutti i panini spennellare la superficie con il latte lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per un'ora e trenta minuti trascorso il tempo abbiamo ripresi i panini spennellarli nuovamente con il latte cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-30 minuti i panini sono cotti lasciamoli intiepidire prima di servire panini per hot dog grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti 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 grazie a tutti